Il voto complessivo assegnato a questo articolo di Alpina è di 9 su 10. Al momento risulta essere il più regalato. I suoi punti di forza sono. Ottimo rapporto qualità prezzo. Facile da usare. Robustezza. Comodo. Leggero. Se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo articolo di Black Pudecker ha riscontrato una valutazione di 9.2 su 10 totali. Risulta al momento essere il più desiderato. I punti di forza sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Leggero. Durata della batteria. In basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Bosch Home & Garden è di 9 voti su 10. Lo valutiamo come la scelta migliore. Ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono. Ergonomico. Facile da usare. Leggero. Robustezza. Il prezzo di questo articolo, insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video. Questo prodotto realizzato da Makita ha conquistato una votazione di 9.4 su 10 punti totali. In questa selezione risulta essere il migliore. I suoi punti di forza sono. Comodo. Facile da usare. Durata della batteria. Ottimo rapporto qualità prezzo. Leggero. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video.